Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, sapete già, insomma, chi mi segue su Telegram sa già che il video, il nostro appuntamento della domenica ormai, che è da qualche settimana diventato della domenica, il video domenicale potrei dire, non uscirà domani perché sono stato preso da impegni con l'università, un po' di cose, insomma, diversi motivi, però il video è già fatto, devo solo montarlo, sapete che ci tengo a fare un po' di post-produzione anche perché non sono un eroe, un genio della comunicazione e quindi magari delle volte non riesco subito a fare, come si dice, il buono alla prima e quindi un po' di montaggio del video è sempre necessario. Come avrete già capito questo video non lo taglierò, quindi sentirete tutte le mie imprecisioni nel parlare, quindi farò... beh, vabbè, fa niente. Detto questo, volevo chiedervi stasera, quando potete, insomma, di pensare un po' a, almeno coloro che mi seguono, anche coloro che sono di passaggio e vedono questo video per la prima volta, di pensare un po' a che cosa vi manca su questo canale, in che senso, sapete che questo canale è un canale dedicato all'informatica che è una disciplina talmente vasta che passa da utilizzare una semplice applicazione o un programma come Excel piuttosto che Word, piuttosto che Paint o altre cose a dover programmare, quindi installare compilatori, interpreti, eccetera, eccetera, a metterci un po' di teoria dietro e tutte queste cose. Quindi, che cos'è che vi piacerebbe vedere? Quali sono gli argomenti che vi interessano di più? Come fate a dirmelo? Beh, potete dirmelo sotto uno dei qualunque, sotto uno qualunque dei video che ho pubblicato e in particolare nei commenti, soprattutto sotto questo video. Ditemi degli argomenti dei quali vi farebbe piacere che io parlassi, dei quali vorreste che io parlassi e se li conosco potrei fare un video, non dico quasi subito perché adesso voglio far uscire poi il video che sarebbe dovuto uscire in mani e poi per il resto potrei documentarmi, fare un video su un determinato argomento proposto, fare una serie, una playlist o quello che ritengo più opportuno. Anzi, è una cosa molto buona perché se mi dite un argomento che in realtà mi appassiona potrei studiarchiamolo un po' e poi fare una serie di video su quello che ho imparato. E questa è una cosa molto importante perché arricchisce me e arricchisce anche il mio canale e fa contenti anche voi che guardate forse più volentieri i video pubblicati. Detto questo, io stasera la finisco qui, video veloce, video cacchierata, vi saluto, mi raccomando, insomma spero di ricevere qualche commento, se appunto avete delle idee da suggerirmi fatelo. Detto questo ci vediamo alla prossima, spero prima possibile col video ufficiale, non vi ricordo nulla su iscrizioni o cose varie perché sapete già se avete voglia di farlo dove trovare le cose. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao, ciao ragazzi, buona serata.